Siamo quasi arrivati, ecco il palazzo reale Mia madre ci darà qualche consiglio per la creazione dell'abito Credi che ci darà una mano anche tuo padre? No, non credo proprio, Flora Non sa neanche cosa sia un accostamento di colori Ma sarà contento della mia visita a sorpresa, ne sono certa Stella! Oh papà, che bello, mi sei mancato così tanto Anche tu, stellina mia Ma sai com'è piena di insegni la vita qui a palazzo? Ok, non ti disturbo, ci vediamo più tardi, ciao ciao Ragazze, avete anche voi l'impressione che sia un po' troppo nervoso? E se gli organizzassimo una bella festa? Aspetta un attimo, non volevi realizzare il vestito per trovare la stella primaria? Certo che sì, Aisha, farò entrambe le cose con il vostro aiuto Forza, andiamo! È bello che Luna abiti ancora nel palazzo reale Vuoi realizzare un abito degno di una regina? Allora troverai ciò di cui hai bisogno al villaggio dei mappi Giusto, hai ragione mamma I mappi ci saranno di grande aiuto A dopo Ciao Stella, sono curiosa di vedere il tuo abito quando sarà pronto Organizzeremo una festa anche per mia madre Siete d'accordo con me? Sì! Ma ora la prossima fermata è il villaggio dei mappi Non ho capito il villaggio di chi? Che meraviglia! Questo è il villaggio dei mappi Sono i migliori gnomi artigiani dell'universo magico Dunque, ho bisogno di una stoffa degna di una regina Di un rocchetto di filo d'oro E di qualche germa per decorare il mio abito Facile! Sono materiali molto preziosi Stella Come convincerai i mappi a darci tutto quanto? Tranquilla, basterà farli ridere Questa è proprio la stoffa che cercavo È perfetta per una regina Benvenuta nel nostro negozio Buongiorno, vorrei un po' di questa magnifica stoffa In cambio vi racconterò una barzelletta esilarante Un bambino che ha di assurdo